Le malattie reumatiche infantili sono un gruppo di malattie che è caratterizzato lo sviluppo di un processo infiammatorio che può colpire tutti gli organi ed apparati, quindi la diagnostica precoce di queste condizioni e il trattamento tempestivo sono assolutamente fondamentali. Arrivano ancora alla nostra attenzione molti bambini nei quali la malattia è stata scoperta soltanto tardivamente e che quindi già hanno degli esiti che in qualche caso sono irreversibili. La presenza di AMNI è stata straordinariamente preziosa anche in momenti più difficili. AMNI ci ha fornito sostegno per fisioterapia, per psicologa, insomma tanti sono stati gli apporti oltre alle case, per i genitori, sono stati pagati dai ricercatori, sono stati pagati dai programmi di ricerca, quindi è stato un sostegno continuo su tutti gli aspetti che riguardano il trattamento delle malattie reumatiche. L'associazione di familiari è importante perché capisce dall'interno quali sono i problemi, individua là dove ci sono delle difficoltà, i bisogni delle famiglie e cerca di risponderli. Tutto questo è stato ed è possibile grazie al generoso impegno di tantissimi volontari, i progetti di AMNI hanno bisogno di sostegno e di finanziamenti, oltre alla firma del 5 per 1000 potete aiutarci nei modi che sono descritti sul sito www.amri.it 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 Grazie a tutti.